Milioni di donne e ragazze nel mondo sono aggredite, picchiate, violentate, mutilate e addirittura uccise in quella che è un'orribile violazione dei diritti umani è il messaggio del segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon oggi giornata mondiale contro la violenza sulle donne la data del 25 novembre è stata scelta perché ricorda il giorno in cui tre sorelle vennero uccise barbaramente dal regime dominicano nel 1960 sono più di 100 le vittime in Italia dal 1 gennaio di quest'anno una ogni tre giorni, uccise da mariti, ex conviventi, fidanzati una violenza che aumenta di anno in anno ma non esiste una statistica precisa dati agghiaccianti se si pensa che in 7 casi su 10 le vittime avevano denunciato minacce e violenze e sono sempre di più anche i figli che assistono quotidianamente alle violenze e danni delle loro madri si è passati dal 75% del 2011 all'81% di quest'anno, ci dice il telefono Rosa bisogna cercare di dare un senso a questi numeri terribili a questa violenza che entra nella vita delle donne è un fatto culturale io credo, purtroppo non è una novità è arrivato il momento di mantenere le promesse che i leader hanno fatto alle donne esorto tutti i capi di stato e di governo a mettere fine alla piaga della violenza a sottolineare un messaggio dell'ONU Michel Bachelet, ex presidente del Cile in alcuni paesi 7 donne su 10 sono vittime di ogni genere di sorprusi e il ministro Fornero oggi torna a sollecitare entro la fine della legislatura la ratifica anche in Italia della convenzione di Istanbul grazie a tutti grazie a tutti